Ben tornati, oggi è mercoledì 19 dicembre 2018, siamo sempre su CipRTV, inizieremo costruendo un heavy complex costituito da un power clean, un hang squat clean e un jerk, a seguire il WOD 5 round ogni 4 minuti con 20 calories raw, 20 pistol squat e 7 clean and jerk, pesi e scalature come al solito sulla grafica qui di fianco, il resto della classe lo trovate come sempre su Instagram, per oggi è tutto, ci rivediamo domani, ciao, buona giornata.